se vogliamo che questo posto diventi migliore dobbiamo parlare come un unico gruppo unito chi ci sta ma sei impazzita no è arrabbiata siamo tutte arrabbiate tu hai fatto un torto alla nostra amica signor caputo e noi vogliamo giustizia indirizzata a chi di dovere noi detenute di litchfield siamo esseri umani stiamo protestando per le condizioni degradanti nelle quali siamo tenute gli offriamo uno spettacolo diventeremo super famose sorridi con gli occhi hai capito che cosa sto facendo veniamo picchiate senza motivo siamo stipate quattro per stanza come polli di allevamento ci negano un trattamento umano come vi aiuto non piacerai alle altre la storia della mia vita fai quello che devi fare non devi niente a nessuno mio dio avevamo l'occasione di comandare sul serio non volete comandare se hai un problema risolvitelo questa è casa mia e ho intenzione di parte possiamo fare delle richieste nessuna idea è una pessima idea una vera gelatina lezioni di latino una camera antigravità dove fluttuiamo e facciamo le capriole ok alcune idee sono pessime idee di a quella donna cosa vogliamo vogliamo essere prese sul serio porco cazzo proprio così l'unica soluzione è quella di restare unite ottima idea c'è più forza in un singolo messaggio di unità potenti spiriti siamo pronte a ricevervi riuscirà il nuovo trailer ad entrare in classifica al decimo posto thor ragnarok al nono posto spider-man homecoming all'ottavo posto baby driver il genio della fuga al settimo posto la torre nera al sesto posto atomica bionda al quinto posto valerian e la città dei mille pianeti al quarto posto kingsman il cerchio d'oro al terzo posto star wars gli ultimi jedi al secondo posto dunkirk e al primo posto rimane it e questa è la classifica aggiornata per vedere se la classifica cambierà non perdetevi i prossimi trailer e per saperne di più su questo film visitate il nostro sito blog.screenweek.it ciao ciao